fondina russa per Makarov nuova di magazzino tra la prima e la seconda scelta ci sono delle piccolissime differenze ma impercettibili tipo graffi piccoli graffietti dovuti al maneggio più che altro qui ha riportato il timbro ottk di chiara fabbricazione russa interamente in cuoio in spesso cuoio cucito e bullonato per quanto concerne le parti dove vengono messi doppi passanti per passarlo nel cinturone anche un fissaggio in metallo un rivetto alla sua base un bottone automatico con incisi dei caratteri cirillici abbiamo preso una Makarov e vediamo che la fondina va per perfettamente per questo tipo di pistola